Pulizia di Pasqua sul litorale di Pestum. È partita in questi giorni la bonifica dell'arenile. Abbiamo iniziato con la rimozione degli ingombranti abbandonati sull'arenile, dice il consigliere comunale Maurizio Paolillo, che sta seguendo le attività. Abbiamo trovato anche dei frigoriferi e fino a questo momento oltre una settantina di copertoni, poi passeremo alle altre tipologie di rifiuti. Tutta la spazzatura rinvenuta, dalla plastica al vetro ai rifiuti vegetali, una volta collocata nei sacchi, viene caricata sui trattori per il successivo smaltimento. Ad effettuare la pulizia sono gli operai dell'azienda speciale Piestum, neoassunti a tempo indeterminato. L'opera di bonifica è finalizzata alla fruibilità del litorale in occasione delle festività di Pasqua. Il primo tratto interessato dagli interventi di rimozione dei rifiuti è stata la contrada marittima della Laura. La bonifica continuerà fino a quando non sarà ripulito tutto il litorale e le rinomate dune e pestane. Purtroppo, commenta Mareggiato Paolillo, c'è ancora questo malcostume diffuso di abbandonare i rifiuti sulla spiaggia. La Mareggiata e l'alluvione hanno contribuito a peggiorare la situazione, incrementando nella quantità. Le spiagge sono state invase anche da ingenti quantitativi di manufatti in polistirolo, utilizzati dagli agricoltori per la collocazione delle piantine da seminare. Nei prossimi giorni inizierà anche la pulizia delle aree demaniali private. Ci stiamo preparando per effettuare gli interventi presso gli stabilimenti balneari, evidenzia il presidente del Consorzio dei Lidi di Pestum, Albertino Barlotti. Ma per le festività di Pasqua quasi tutti i Lidi, tranne qualcuno, resteranno chiusi, anche perché il tempo previsto non è dei migliori.